Una terza media di un piccolo parese si è recata in gita per circa 5 giorni e quando sono tornati si è dovuto constatare che addirittura 7 alunne erano rimaste in città. Io piscio per prima perché ho scopato per prima. Io piscio per seconda. No, io per seconda. Io tengo la quarta. Terza, quarta. Cervix cronica, utero di volume normale, gravidanza settima settimana. Serve soltanto che i nostri genitori e dottori firmino l'autorizzazione. Questo dovrebbe accadere entro la top settimana di gravidanza perché possa entrare nella definizione di aborto. Mamma, mamma! Zitto, retino, crepa, tappati le lecchie se ce le hai. Ah, sono poi preparati? Lo faremo noi. Siamo sedute sulla panchina e teniamo. Sulla mano destra la sigaretta accesa e sulla sinistra i test di gravidanza. E guardiamo davanti a noi. Vediamo tutto lì davanti a noi. Solo i nostri corpi non vediamo. Grazie. 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 Grazie.